Finito un divieto, se ne trova un altro. La terra promessa resta inaccessibile. Il confine non è aperto. Chi prova a entrare non potrà presentare domanda d'asilo. Avverte il segretario alla sicurezza interna degli Stati Uniti, Mayorkas. A mezzanotte è scaduto il titolo 42, uno stratagemma inventato da Trump ai tempi del Covid, per tener fuori i migranti, che vengono da paesi distrutti da guerre, carestie, alluvioni, dittature, Venezuela, ma anche tanta America centrale. Tutti adesso parlano di caos e paura. Queste persone vengono dipinte come un'orda minacciosa da respingere con la forza. Il Messico schiera la Guardia Nazionale. La Camera del Congresso degli Stati Uniti, controllata dai repubblicani, approva una legge per rafforzare le misure di polizia. Il partito di Trump agita lo spettro dell'invasione, mentre Biden gioca in difesa, chiede più soldi e annuncia nuove restrizioni. Non c'è un politico che rifiuti lo schema securitario. Guardie, manette, prigione, come se poi servisse ad affrontare un fenomeno epocale, le migrazioni di popoli. Siamo animali nomadi, il viaggio ce l'abbiamo nel sangue e i confini sono fatti per essere attraversati. Solo attivisti e volontari, organizzazioni non governative e Caritas difendono queste persone. Ero forestiero e mi avete ospitato.